Un'esplosione fortissima che ha fatto tremare i vetri degli appartamenti delle palazzine circostanti. È successo nella notte del 4 febbraio a Pomezia in via Santorre di Santa Rosa, dove intorno alle 4 è stata fatta esplodere la cassa continua del supermercato DEM. I malviventi sono riusciti a far saltare lo sportello della cassaforte, immettendo del gas acetilene nel vano di apertura della cassa continua, che saturandosi l'ha fatto uscire dalla sede in cui era installata, consentendo così ai banditi di prelevare l'intero incasso del weekend per poi dileguarsi senza lasciare tracce. Un episodio non nuovo al supermercato che fu oggetto di rapina lo scorso agosto, questa volta in pieno giorno. In quel frangente però i due rapinatori italiani furono arrestati grazie alla prontezza di un testimone che aveva preso il numero di targa dell'auto utilizzata per la fuga.